Noi, tutte hanno le unghie perfettamente curate per cavarsi gli occhi. Mi serve del sangue per l'incantesimo, ovvio. Vedete, signori, tutti hanno dei segreti che devono restare tali. Nick, aiutami. Nick. Nick. Nick, aiutami. Sara. Nick. Mi rincresce, Nick. Non possiamo lasciarvi andare. Perché no? Ma dai, Claire, ci divertiremo. Ho ordinato il rinfresco spagnolo, ci saranno tapas, sangria. Ci tengo molto a questa cosa. Bene, ci vediamo a mezzogiorno. Questa festa sta diventando un vero evento. Spero solo che vadano d'accordo. In questo posto a volte c'è un'atmosfera. Sai, Karen ce l'ha con Claire, Devon con Vanessa, è tutto così. Non è che c'è qualche altro motivo? Sempre lì a indagare, ho invitato un sacco di persone. Ehi, sei riuscito a dormire un po'? Hai avuto altri incubi? Sto bene. Meno male che qui era meno stressante di Chicago. Sto bene. E devo andare. Occhi aperti e giubbotto antiproiettili, ti amo. Ti amo anch'io. Claire, pensa solo ad andare alla festa e cerca di non farti irritare da Karen Creschi. Karen, le sue amichette. Proprio non la sopporto, quella disgustosa puzza di cane. Tu ora vai lì e fai la brava, devi apparire normale adesso. Nick. Quando adesso? Quanti misteri. Non è da paranoici. Li hai visti i filmini di Buckley, meglio essere paranoici. E cosa proponi di fare? Lui ha della roba su di noi, noi la troviamo su di lui. Giochiamo ad armi pari. Da un'occhiata. W.R. Harrison, l'uomo che ha fondato il Gates con Buckley, all'epoca non c'era. Harrison muore pochi anni dopo l'apertura, una caduta dalle scale. Qui c'è il rapporto del medico legale. C'è qualcosa di strano, è tutto troppo pulito. Sono vaghi sospetti di omicidio, niente di concreto. Indaghiamo. Dylan, troviamo qualcosa di meglio. Fai parte del consiglio. Hai accesso ai documenti bancari, ai contratti. Giusto. E poi, si tratta anche della tua comunità. E calmate Nick, Buckley non è un vampiro. E se comincia a ficcare il naso in consiglio, finirà per scoprire... Bisogna correre il rischio. Altrimenti Buckley potrà minacciarci per tutta la vita. È questo che vuoi. Dylan. D'accordo. Va bene, ci sto. Ci sto. Bene, ci sentiamo presto. Ciao, Buck. Sì, senti, scusami se ti disturbo in vacanza. È solo che le pillole hanno effetti collaterali molto pesanti. Devo prenderle fino al tuo ritorno. Non so se ce la faccio. Io non so se ce la faccio. Sì, ok. A presto. Ehi, ti stavo cercando. Faccio tardi a lezione. Andy, io voglio solo capire perché mi stai evitando. Io credevo ci fosse un'intesa. E l'altra sera è successa quella cosa assurda. Tu non capiresti. Provaci. Non posso. Visteli poi. Proprio ciò che cercavo. Capo Monon, che piacevole sorpresa. È qui per una pulizia del viso? O vuole un massaggio? In realtà sono qui per farle qualche domanda sul suo ex marito. Fred. La prego, mi dica che si è cacciato in qualche pasticcio. Eccolo. W. R. Harrison. Era amico di mio padre. Non aveva avuto figli così. Era la sua cocca, diciamo. Gliel'ho presentato io, Frank. Non sapevo ancora che razza di uomo fosse mio marito. Aveva molti sogni, ma pochi quattrini e nessuna conoscenza. E poi arriva zio Billy. Io lo chiamavo così. Secondo lei, Frank, in che rapporti era col signor Harrison? Molto cordiali? Lei è a caccia. Cosa sta cercando? Me lo dica lei. Una cosa gliela dico. Frank e zio Billy hanno avuto un brutto litigio prima dell'incidente. Con seno di poi, presumo che zio Billy avesse saputo di Frank e Vanessa. I loro rapporti sono... Degenerati. Poi zio Billy ha avuto un incidente. E Frank ha avuto tutto quello che voleva. Controllo totale sulla società e il 100% dei profitti. E nessuno si è insospettito? Zio Billy aveva problemi all'Anche e io ero giovane e ingenua. Quando ho scoperto di cosa Frank fosse capace, beh, chi ascolterebbe i deliri di una donna umiliata? Lo siete, e tu? Claire! Hai portato una quiche? Tutto ok? Sì, tutto perfetto. Grazie per essere benvenuta. Tu non sai quanto sia importante per me. Non potevo mancare. Però non potrò restare a loro. Mi dà fastidio il sole e non so nuotare. Oh, beh. Sicura? Da un'occhiata a quelle lì. Credimi, nessuna di loro metterà piede in acqua. Ehi, lì, sei venuta? Sì, e ho portato i margarita. Ti servivano? Ah, che piacere. Non pensavo che fosse il tuo genere di festa. Guardare mogli acide che ringhiano contro divorziate anoressiche e chi se lo perde? A dirla tutta speravo in un po' di distensione. Sara, che bel giardino. Ho portato del cervo. Su, prepariamo la berce. Mi metto un po' all'ombra. Hai invitato Claire Redcliffe e Karen Kresky al tuo party? Sì. Sarà uno spasso. Che hai scoperto, Subacli? Ok. Ascolta, Devon pensa che Buckley abbia ucciso Harrison per intascare tutti i profitti. Ma allora i conti non tornano. Anzi, Buckley è sottopagato per il lavoro che svolge. Qui è tutto a posto. Sono i bilanci? Ho fatto di meglio. Sono andato dal direttore finanziario di Buckley, Lloyd Foster. In pratica è qui dal primo giorno. La parte più consistente dei profitti della società non va a Buckley, non va a Devon, non va a nessun altro. L'80% finisce qui. Nel Gates Trust. Quindi, la morte di Harrison non frutta un soldo né a Devon né a Buckley? No, niente movente, niente omicidio. Non lo guardi, detective, tra le righe? E se non fosse per i soldi? Devon dice che Harrison e Buckley hanno litigato. E se... E se Buckley l'avesse ucciso per rapia? E come puoi dimostrarlo? Lloyd. Qui sin dal principio, no? Magari ci puoi aiutare. Ehi, Andy, stai bene? Sì, sto bene. Non è vero, sei molto strana. Te l'ho detto, sto bene. Noi non stiamo più insieme. Lasciami in pace. Bel cervo? Bello al saluto, mi piace anche. Vedo che oggi sei di ottimo rumore. Non è pieno? Lo vedi? Come te lo spieghi? Certi cose non si possono spiegare. Apprezzo i tuoi storsi. Non ricordo nemmeno l'ultima volta che qualcuno l'ha invitata tutte insieme. E tu come stai? Te l'aspettavi così, questo posto? Sì, ma questo posto è meraviglioso. È solo che il problema è la gente. Scusami un attimo. Ok. Guarda che non morde mica. Karen Kreski. Non ne sarei così sicura. Senti, Claire. Sono capar, glielo so, è insistente. E ammetto che i primi tempi neanche a me, Karen, sparo simpatica. Ma è una brava persona. Va lì e cerca di rompere il ghiaccio. Permi. Andrò a salutarla. E sarò gentile. Ma se inizia come le sue solite idrisi. Sei la migliore. Grazie. Guarda, le mie ragazze preferite nello stesso posto. Hai invitato Devon? Sì. Fa caldo oggi. Chi fa un bel tuffo in acqua? Apprezzo le tue buone intenzioni. Ma ora devo andare, io non ce la faccio. Grazie, signor Foster. Sappiamo che Harrison e Buckley hanno avuto dei dissapori prima che Harrison morisse. Il motivo era la storia con Vanessa? Così si mormora. Sa, Harrison era molto affezionato a Devon. Quindi, se avesse saputo che Frank Buckley tradiva sua moglie... Immagino le conseguenze. Apocalittiche. Guardi, qualunque cosa fosse, Harrison era così sconvolto che ha minacciato di chiudere il gates. Poteva farlo? Mi chiese di occuparmi dei dettagli. E poi... E poi Harrison morì. Davvero una fine svista, pover'uomo. Lo trovarono a faccia in giù ai piedi della scalinata. Lloyd, vorrei tutti i documenti relativi a quell'anno. E una copia del testamento. Come vuole. Sul serio, gli incontri online sono una rivelazione. Ricevo centinaia di messaggi al giorno. Tolte gli sfigati, restano decine di uomini attraenti e ansiosi di incontrarmi. Beh, Karen, tesoro, dovresti provare. Non devi invecchiare tutta triste e sola. È da provare. Sì, Sara, tutto a posto? Allora, proviamo. Niente, mi sto rendendo conto che questo party è stato un enorme sbaglio. Io speravo che andassero d'accordo. Perché sei un tesoro. Sai, Nick è passato da me oggi. Mi ha chiesto di Frank, così misterioso. Beh, avrà le sue ragioni. Ma quali saranno? Sono curiosa. Chissà se Frank si è fatto ancora sorprendere con le mani nella marmellata. Chissà se riusciranno a incastrarmi, stavolta. Beh, Nick, non parla con me di lavorare. E se lo facesse non diresti nulla, no? Per riservatezza. Sì, già. Oh, dimenticavo. Ho qualcosa per te. Il mio test speciale. Aiuta a rilassarsi nelle giornate difficili. Sono gli ultimi. Chi ne vuole? È cerdo? Non è un po' banale? Come vuoi. Quindi hai trovato questa società in quelle carte? Sì. E questa River Trace Land Management viene pagata direttamente dal fondo di Eris? Sì, un quarto di milione al mese. I pagamenti sono effettuati in base a una clausola sul testamento. Aggiunta una settimana prima che morrisse. Non somiglia affatto agli altri uffici di Pagli. È abbandonato? No, non direi. Sembra che questo posto serva solo a succhiare denaro dal fondo di Harrison. L'affitto è stato pagato con un bonifico da un conto cifrato nelle Antille olandesi. Questa è una società di comodo. Ne ho già vista di simili. Cosa? Ho già fatto cose del genere. Entrare negli uffici vuoti di una società fantasma? No, trovare dei locali vuoti per una società fantasma. I miei... I miei simili, di solito, vanno oltre la data di scadenza. Quindi ogni dieci anni più o meno dobbiamo ricominciare da capo. Nuovi nomi, città, certificati di nascita. Altrimenti non invecchiate. Molti potrebbero avere i sospetti. Esatto. E se qualcuno accumula una certa ricchezza, fa in modo di conservarla. E quindi, uffici fasulli, società di comodo, clausole nei testamenti? Il che solleva una domanda molto inquietante, visto che vogliamo provare che Buckley ha ucciso Harrison. Se Harrison non fosse morto? Se trasferisse il proprio denaro a se stesso? Giusto. Forse Harrison è uno di voi. Dobbiamo incontrarci. Assolutamente. Direi di sentirci al telefono. Qual è il tuo numero? Ehi, Devon, hai lasciato la zucchiera a casa mia. Scusa, sei occupata meglio che... Vieni, ti ho fatto. Siediti, ti offro un bel tè. Adoro questo tè, ne berrei a litri. Merito dell'ingrediente segreto? Scusa se ti ho rovinato la festa. No, non dirla neanche per scherzo, scusami tu. Ci sei finita tu in piscina. Purtroppo è stato un grande sbaglio. Giuro che non capirò mai questo posto. I misteri rendono la vita interessante. A proposito, sai niente della piccola indagine di Nick su quel porco del mio ex marito? Dai, sai che non posso parlarne. Ma certo che puoi. Chi vuoi che ci senta? Ti basta solo dirmi tutto ciò che sai. Nick mi ha dato da studiare i bilanci e il testamento di Harrison. Ho trovato un sacco di stranezze. Continua. Una cosa che hanno dato nel testamento è stata la clausola, aggiunta prima che morisse. Grazie per il test. È stato un piacere. Parlo con Mistley Boy? Harry, che voce gradevole. Quando vogliamo vederci. Andy. No, Andy. Andiamo, no. Andy, fermo. Vattene, ho detto. Non voglio evitarmi, ne fermo. Brett, vattene. So che c'è qualcosa che non va. No. Non ti impiacciate. Ho detto di lasciare. Brett, no. Hai. Brett, basta. Ci ho disfattato. Charlie, no. No. E' il mio giorno fortunato Come mai hai scelto uno come me? Mi piace perché non sei come quei bambocci Tu sei diverso Che cosa avrei di speciale? Rilassati Stavo cercando proprio qualcuno come te Con me puoi mostrarti per ciò che sei Non lo stiamo facendo sul serio Lo stiamo facendo e come? Serve un ordine della procura per esumare un corpo Serve una vanga e siamo in due Dobbiamo scoprire se Harrison è vivo, giusto? L'unico modo È scavare E noi scaviamo Ok, lascia Ecco Oddio Guarda l'alloggio dell'H È stata sostituita Sì È artificiale È Harrison La mia teoria va a farsi benedire Senti Dylan Prova a girargli il cranio Voglio vedere una cosa Sono serio Ti fanno impressione i morti? Ecco, la vedi? Ferita da impatto sul cranio Non te la procuri cadendo dalle scale Altro che incidente C'è qualcosa che devi dirmi? Ho sentito il tuo odore dalla porta d'ingresso Il tuo odore Posso spiegarti? Mi costa uno sforzo enorme Mantenere la promessa che ti ho fatto Quindi qualunque cosa Sto proteggendo la nostra famiglia Frank Buckley minaccia di ricattarmi È in possesso di un video Nel quale uccido quella donna Per salvare Nick Ti ha visto? Sì Ci ha mostrato la registrazione Che cosa vuole? De Nero Lo paghiamo? Vuole il nostro silenzio Cooperazione Ma ascolta Io e Nick abbiamo un piano Troviamo qualcosa su Buckley E lo inchiodiamo Lo inchiodi? Frank Buckley La persona che ha accolto la nostra famiglia A braccia aperte Lui scopre che hai ammazzato una donna qui dentro E tutto ciò che chiede È che tu segua le regole Claire, non si... Che cosa vorresti fare di Landimelo? Non ti capisco Sei tu quello che dice sempre Pensa a noi Pensa a Emily Immagina le conseguenze Non dimenticartele Quelle parole E lascia perdere questa storia Date una norsa Lo manca Restiamo di portare In effetti era questa l'idea Però Che occhio nero A mamma ho detto che è stata una porta Non credo se la sia bevuta Non devi vergognarti per ciò che hai fatto È stato forte Ma se mi ha massacrato E non è neanche finita Volevo solo proteggere Andy Invece sembrava quasi Che le avessi fatto qualcosa Non la capisco Senti Non so che cosa le sta succedendo ultimamente Però so per certo che tiene molto a te Quindi non mollare Se lo dici tu Certo che lo dico io Dylan Sono Nick Senti Vuoi fare un salto qui da me? Nick Permetterla Con queste indagini Lei cerca di ricattare me e Dylan No il mio non è affatto un ricatto È un avvertimento Avete commesso gravi sbagli E dovete capire che qui dentro Non potete permetterveli Pensate a quanto di buono è stato fatto qui Invece di mandare tutto all'aria È questo che voleva fare Harrison? Mandare tutto all'aria? Di che cosa stai parlando? Lei vorrebbe aiutare il prossimo Proteggere il suo paradiso? Scommetto che ha ucciso Harrison Che lo ha ammazzato con un colpo alla testa Nella sua casa Credi che abbia ucciso Harrison? Era un padre per me Tutto quello che sono oggi lo devo a lui Come avrei potuto? So che voleva farvi chiudere Era arrabbiato Era confuso ma Non minacciava nessuno Mettiamo che sia disposto a crederle Qualcuno ha ammazzato il suo amico Il suo mentore Non vuole giustizia? Certo che la voglio Provvedo subito a... No No Mi lasci fare il mio lavoro Di solito non mi piace fare il bagno ma... E qui sto bene Ma è perché con me non sei costretto a fingere? Qui puoi essere semplicemente Ciò che sei È da molto molto tempo Che cercavo qualcuno come te Non credo che tu abbia problemi Ad ottenere una cosa se proprio la vuoi Rimarresti sorpreso La mia vita è stata una serie di profonde delusioni Mi hanno ferito i morti Se qualcuno ti fa soffrire di nuovo Basta solo che tu mi dica dove trovarlo So come far sparire certi problemi Sei dolce Non vai per il sottile ma... Sei dolce Sai C'è un modo in cui potresti aiutarmi? Dimmi soltanto che devo fare Altre bollicine? Non è una cosa che devi fare ma... Che puoi darmi Quello che voglio da te Sono i tuoi occhi Dilan? Dilan, sei in casa? Rosso sangue, tu mi piace a te Ciao, sei che sono e sai cosa fai? Christian, adesso devi smetterla Non cercarmi più Basta con i fiori Tutta questa... Karen, non puoi entrare qui Non mi serve il permesso per entrare in casa d'altri Come a certe persone Che è successo? Ti prego, vattene Perché continuiamo a farci tutto questo? Va via Non posso È per Sara È per Sara, ha un problema Sta bevendo il stai di Devon E credo stia già facendo effetto E che suggerisci di fare? Intanto Intanto Ti aiuto a dare una pulita E poi le parliamo Insieme Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ragazze, sono così contenta. Sapevo che stanno un po' insieme e sareste andate d'accordo. Spesso è necessario un punto di vista esterno per capire ciò che è ovvio. È bello avere una persona come te, Al Gates, Sara. Una persona priva dei pregiudizi che noi ci portiamo dietro. In verità, abbiamo una confessione da farti. Questa non è una risita di piacere. Sara, da quanto tempo bevi il tè di Devon? Ah, vediamo, più o meno da quando sono qui. È così rilassante, è ottimo, è come bere del vino ma senza i capogiri. E scommetto che fa più effetto ora di quando hai iniziato a berlo. Beh sì, è vero, ma... Ascolta, quello che vogliamo dirti è se una cosa è troppo bella per essere vera, meglio non fidarsi. Soprattutto se ha a che fare con Devon. Non posso entrare nei dettagli, ma non c'erano segni di affrazione. È qualcuno di cui Harrison si fidava. Come Buckley? Esatto. Non resta che trovare il movente. Deve aiutarmi a capire in che modo il denaro passava dal fondo di Harrison al River Trace Management. Io farò tutto quello che posso. Bene. Grazie, Lloyd. Brett, mi creda, se mi aiuta a risolvere l'omicidio di Harrison, sarà un eroe. Brett, per favore. No, ascoltami. Due minuti, se non ti convinco, giuro che non ti parlerò più. Due minuti. Ora so che ti sta succedendo. So che ora non mi credi, all'inizio anch'io non riuscivo a crederci, ma ora... Ho capito. Brett, non credo che tu... Ma sì, invece, Randy. So che quello che stai passando sta accadendo perché sei diversa. Sei diversa e credi che nessun altro possa capirti, ma io posso. Io ti capisco. Lo capisco perché non sono umano. Non sei solo, Randy. Da adesso non devi sentirti più sola. Sì. Tutto ha iniziato con mia madre. Hai abbocchiato, Lloyd. Fregato. Lloyd. Frank. Io posso spiegarti. Vati. Sei tu. Sei stato tu. Hai cambiato il testamento e poi l'hai ucciso. Ora è tutto chiaro. Sei proprio come Harrison. Ficchi il naso dove non dovresti. Ho portato questo per fare un po' di pulizia. Fermo! Mettiti a terra! A terra! In ginocchio! In ginocchio! Metti le mani dietro la testa! Mi hai tesa una trappola. Teso una trappola? Faccia in giù ai piedi delle scale. Le foto del diritto non sono mai state diffuse. Ti sei tradito, idiota. Non c'è di che. Fate passare! No, fermi. Fermi. Solo un minuto. Se non mi avessi salvato, saresti stato libero di andare via. Ci avevo fatto un pensierino. Va. Non cercherò di fermarti. Portatelo via. No, no, quasi finito ormai. Sì. Ah, ti richiamo dopo. Ok. Salve. Signora Buckley, che posso fare per lei? Vengo adesso dall'ospedale. Frank mi ha chiesto di passare. Mi ha detto che vuole lasciarci. Beh, ci sto pensando. È un peccato. Frank ha passato molto tempo a cercare uno come lei. Perfetto per questo posto. E credo che l'avesse trovato. Sì. Qui non è proprio come me l'aspettavo. Lei ha paura di questo posto. Di Dylan e Claire e degli altri per ciò che sono. Vampiri. Ma Sarah e Claire sono amiche. E Dylan ha rischiato tutto per lei. E se non fossero dei mostri? Se fossero solo persone con caratteristiche uniche e un passato complesso, che hanno bisogno del suo aiuto. Se questo posto non fosse una trappola. Se fosse scritto nel suo destino. Se non fosse arrivato qui per caso. Ok. Se questo è davvero il paradiso che lei dice, perché tutti questi segreti? Cosa vuole proteggere, Frank? Me. Sta proteggendo me. È per me che si è opposto ai piani di Harrison quando voleva far chiudere tutto. Ed è per me che si danno all'anima per questa nostra piccola comunità. Perché io sono una di loro. Sono un vampiro. La verità è che tutto ciò che Frank fa per il Gates lo fa solo per amore. Ecco il vero segreto di questo posto. Amore. iscriviti al nostro canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.